Nella puntata di oggi, insieme al nostro capitano Maurizio Pastacaldi, Giovannino Romano, un veterano della pesca in gallura, è una vera enciclopedia vivente di storie e personaggi che hanno frequentato questo splendido mare. Io sono qua, alla scuola di pesca, però oggi mi sono sentito di invitare un mio grande amico, un noto esperto della zona, Giovannino Romano. Giovannino, raccontaci qualcosa di bello, raccontaci un po' la tua vita di storia di mare e di pesca che sei qua a fare, a Porto Rotondo, ci farei? È troppo lungo, ci vorrei avere troppo tempo. Qualche cosa di saliente per la soddisfazione dei nostri amici telespettatori. Guarda, una volta ti racconto, su quella punta lì, vedi quella punta lì? Ero fuori con Nando, il comandante dell'Agnita, che allora aveva il dottor Umberto Agnelli, e facevamo un train lì e mi ero portato Giovanino, Giovanino Agnelli, sei quello lì? E' un'auto bellissima, aveva avuto 8-9 anni e stavamo pescando con le piumette, sei quelle di Gabbiani e andavamo a prendercele qui a Mortovio e incorcia una spigola di 7-8 kg. Giovanino mi diceva, dai, dai Giovanino, damalo a me, damalo a me, io mi diceva, guarda che la perdi, guarda che la perdi, ma no che non la perdo, sì che la perdi, è vero che l'ho dato, si pescava con il filo a mano, infatti arrivati lì, boom, le ha dato, non hai riuscito, sei, a molarla, farla stancare, boom, le ho dato uno schiaffo, si è messo a piangere il poverino, ma non per lo schiaffo, per il pece perso. Grazie.